Questa sera presso la sala del Consiglio Comunale di Atessa c'è stato lo spoglio delle schede con le quali il comitato spontaneo Atessa agli Atessani ha voluto coinvolgere i cittadini su un tema di scottante attualità, si spera non di prossima attualità ma è un rischio che purtroppo ci può essere qui ad Atessa, l'arrivo degli immigrati. E chiediamo ai due portavoci Andrea Marco Longo e Deborah Fioriti quali sono stati i risultati dopo lo spoglio al quale abbiamo assistito anche noi. Grazie Antonio, allora lo spoglio si è concluso giusto ora e c'è stato un no schiacciante, il 97,5%, la restante parte sono dei sì e qualche scheda bianca. Ecco quindi noi giovedì porteremo questo risultato al prefetto che è il risultato di una cittadinanza che dice assolutamente no all'arrivo di questi immigrati senza sì e senza no e ci aspettiamo che il prefetto ne tenga conto e che ne tengano conto anche le forze politiche locali principalmente ecco il sindaco che si faccia portavoce di questo no della sua cittadinanza. Andrea Marco Longo, questa è una battaglia che voi avete deciso di intraprendere non dico in solitudine ma in pochi però i cittadini hanno risposto in massa almeno quelli che sono accorsi al referendum. Sicuramente la voglia anche di votare della gente è stata tantissima e ancora oggi stiamo ricevendo richieste anche personali di cittadini che vogliono essere raggiunti per poter votare. Ovviamente i tempi erano stretti e abbiamo cercato di realizzare dei banchetti più numerosi possibili. Sappiamo che il potenziale è ancora più alto però resta il fatto che per una cittadina come la Tessa che ha un numero di elettori possibili tra i 6 e i 7 mila raggiungere quasi 2 mila votanti è un grande successo. Pensate che Pescara è riuscita ad ottenere nel caso dell'hotel Holiday il ridietro fronte dell'hotel con semplicemente mille voti quindi per noi è più che un successo. Questa sera avevate annunciato nei vostri comunicati stampa la presenza di di primi e sospiri oltre ad un rappresentante di Pietraferrazzana che dovevano parlare di alcuni esempi favorevoli alla lotta contro l'arrivo degli immigrati. Come mai non è avvenuta questa serata? Allora la serata non c'è stata per il momento diciamo questa seconda parte è stata annullata perché il sindaco di Chieti Umberto Di Primio era impegnato in un'aggiunta e aveva delle questioni amministrative importanti da risolvere. Siccome il sindaco ci teneva molto ad essere presente abbiamo convenuto con gli altri due partecipanti ovvero il consigliere regionale Sospiri e con Daniela Di Tommaso portavoce del comitato di Pietraferrazzana di scindere le due cose e quindi spostare la serata in un altro momento quando anche il sindaco potrà essere con noi. E chiudiamo con Marco Longo questo movimento probabilmente non so se è una mia impressione però è visto un po' con diffidenza dalle altre forze politiche atessane è giusta la mia impressione? Diciamo che intanto siamo una giusta espressione di quelli che sono gli atessani e che tengono realmente il loro territorio siamo un comitato composto da persone di qualunque tipo di provenienza e forse a testa c'è qualche problemino riguardo a chi si deve fare. Noi vediamo che quando qualcuno si mette davanti per cercare di fare del bene per il paese nascono subito delle critiche, qualche attrito. Noi siamo puliti, siamo onesti e lavoriamo solo e esclusivamente per il bene del paese e ci togliamo anche qualche sassone dalla scarpa dicendo che chi ha voglia di fare si unisca a noi. Chi non ha voglia può anche magari qualche volta tacere che farebbe più bella figura.